Scusate, in queste modalità ibride, nel senso che partiamo nel momento in cui sono collegate, mi hanno detto che ci sono 700 persone collegate, quindi sono veramente in tanti. Ok, 10 secondi e vado. Ecco, buon pomeriggio a tutti, io sono Stefano Arduini, direttore di vita, ringrazio gli organizzatori di Reas e di Ampas per il convegno di oggi, che credo sia un convegno molto importante, siamo qui allo spazio Fiera di Montichiari, per appunto Reas 2021, ci sono i parcheggi pieni, ho fatto veramente fatica a trovare il parcheggio, quindi mi dicono che è veramente un'edizione molto partecipata, ci sono tanti volontari, tante facce di ragazze in giro e di questo sono veramente contento. Siamo qui nella sala principale della sala congressi del palazzo che ci ospita, tutti ovviamente distanziati come da regolamento e soprattutto saluto chi ci sta vedendo dai social, siamo in diretta Facebook, correggetemi, giusto? Corretto, mi dicono dalla platea, siamo in diretta Facebook e ci sono 700 persone collegate, quindi questo mi fa molto piacere. Abbiamo un tema, affronteremo oggi un tema, devo dire decisivo, perché forse mai come su questo punto il tema della comunicazione, di come è stata comunicata la pandemia, i vari passaggi della pandemia, ha avuto un impatto poi sul comportamento reale e concreto delle persone, quindi questo l'abbiamo visto anche nel nostro piccolo, o nel nostro grande, insomma dalla piattaforma di vita, di vita.it, quanta attenzione c'è stata per quello che anche noi abbiamo raccontato dal nostro punto di vista rispetto alla pandemia. Abbiamo dei relatori assolutamente qualificati, ve li presento, faremo una modalità molto dialogata, non ci saranno relazioni, diciamo, ex cattedra. C'è con noi il capo dipartimento della protezione civile, l'ingegner Fabrizio Curcio, buongiorno, buongiorno Curcio, Fabrizio Pregliasco, che ormai lo conoscete in tanti, che è presidente nazionale di ANPAS, quindi guida circa 100.000 volontari e sono 950 associazioni, più o meno, di ANPAS, oltre a essere un virologo ormai di fama nazionale, se non internazionale, buongiorno Fabrizio, anche a te. Poi abbiamo Paolo Spada, che è un chirurgo vascolare, lavora all'Humanitas di Milano, ed è confondatore di uno, diciamo, dei fenomeni della comunicazione che è emersa in questo anno e mezzo, che si chiama Pillole di ottimismo, una pagina Facebook molto seguita, che ha aggiornato costantemente, che ci ha dato, che ha aiutato chi ha seguito quella pagina a capire qualcosa di più, a partire, appunto, dalle analisi dei dati. Buongiorno Spada, che seguito avete? Quanti followers avete? Siamo, mi pare, 180.000. 180.000. Quando è stata creata la pagina? È nata nel maggio del 2020. Nel maggio del 2020, quindi in pochissimo tempo ha fatto 120.000 followers, che sono una cosa, dal punto di vista della comunicazione, assolutamente strabiliante. Poi abbiamo Marco Lombardi, che è un sociologo della Cattolica, che è direttore della Scuola di Giornalismo della Cattolica, che ho fatto anch'io tanti anni fa, ed è anche direttore di It's Time, si occupa, appunto, di comunicazione mediale e comunicazione del conflitto. Buongiorno, professore. Buongiorno. E poi Luca Puleo, scusa Luca, che è il responsabile ANPAS Lombardia, che oggi siamo in Lombardia, quindi è un po' il padrone di casa. Però è anche lui un docente di crisis management, e quindi di situazioni di gestione delle crisi, e quindi credo che anche il suo punto di vista sia importante. Io partirei da, insomma, proviamo a stare un po' anche sulla notizia, no? È dichiarazione di ieri, è anche molto ottimistica, di Draghi, che è sempre molto misurato. Dice che siamo davvero vicini alla fine della pandemia. Dovendo occupare le comunicazioni, vi chiedo veramente un flash, dal vostro punto di vista, un commento rispetto a questa dichiarazione. In particolare, appunto, partirei da Curcio, e poi in particolare a chi rappresenta un po' il mondo sanitario, quindi direi pregliasco e spada. E poi partiamo con, diciamo, con i temi più specifici rispetto all'incontro di oggi. Prego, direttore Curcio. Grazie intanto dell'invito, grazie ad Ampas, saluto il presidente, l'amico Fabrizio Pregliasco, i tanti colleghi di Ampas, ovviamente tutti i compagni di questo piccolo viaggio che faremo insieme nell'ambito della comunicazione. Allora, per rispondere subito, e ovviamente tutti quelli che sono collegati e che seguiranno questo incontro. Tema della comunicazione, ovviamente la domanda che mi fa, è una domanda, come dire, particolare. Il presidente si è espresso, quindi siamo tutti contenti delle parole del presidente, perché effettivamente secondo me premia un percorso che in questi mesi si è svolto di vaccinazione da un certo verso, misurata la famosa apertura responsabile dall'altro verso. Credo che ad oggi i numeri confermino che quel percorso che è stato impostato qualche mese fa, che è partito anche dall'esperienza difficile dell'anno prima, attenzione perché noi dobbiamo sempre, e questo è un tema principale e importante anche in tema di comunicazione, tendiamo sempre a vedere l'ultimo miglio, rendendosi conto, e noi invece che lavoriamo in operatività, che l'ultimo miglio è anche frutto di un percorso che oggi non ricordiamo più, ma che ha fatto parte in maniera essenziale di quel livello di decisione. Quindi io credo che noi possiamo prendere con grande ottimismo la decisione che il governo ha preso ultimamente, c'è voglia, grande voglia di normalità, c'è grande voglia di sicurezza, e proprio per chiudere, per fare appunto, mi sembra che è bene che ci limitiamo a questa questione dei flash, credo che sia anche molto importante comprendere che stiamo parlando di un fenomeno che ha delle evoluzioni, ma che in quest'ultimo momento, in questi ultimi mesi, ha avuto anche tutto sommato una stabilizzazione nella sua comunicazione, cioè abbiamo meno posizioni o voci dissonanti, a parte diciamo le ale un po', chiamiamole estremiste, su quali ovviamente non entro. Però anche il tema, per esempio, che è stato molto importante e noi come protezione civile, Fabrizio Bellonsa, perché ha lavorato sia come protezione civile, come Ampas, ma anche con la sua esperienza, diciamo, professionale, il famoso dibattito sui vaccini, sull'uso dei vaccini, AstraZeneca sì, AstraZeneca no, ecco, in quest'ultimo momento, quando c'è stata una procedura, chiamiamola operativa, seppur in termini sanitari, più stabile, più chiara, anche più facile da comunicare, almeno la mia sensazione è che il fenomeno, anche in termini di comunicazione, abbia avuto una percezione migliore. È stata maggiormente gestibile e questo ha avuto impatto anche sull'efficientamento del processo. Fabrizio Fregliasco, un tuo punto di vista anche su questo. Fabrizio, Ampas nel Comitato Editoriale di Vita, ci conosciamo nella vita, mi permetto di dargli del tu, anche, diciamo, in un momento pubblico. Devo dire che è sempre stato molto misurato, molto attento a tenere sempre alta la guardia. Si può abbassare un pochino adesso? Io credo che la voglia di normalità c'è in tutti, c'è stanchezza e c'è la constatazione che come Italia siamo andati bene. Credo grande è stato il lavoro della protezione civile, anche in questo senso, sia nei momenti emergenziali iniziali e ora in questa fase della vaccinazione, che è un'opportunità che altre nazioni non hanno nel mondo. Il punto è che bisogna essere prudenti. Quindi io credo che quello che anche sono state le ultime decisioni riguardo alle aperture, le discoteche, elemento simbolico, che sono state un po' le ultime, con tutte le sofferenze, proprio come esemplificazione delle difficoltà e dell'equilibrio fra economia, interessi e salute, è che in qualche modo possiamo andare a stare meglio e essere, diciamo, in una quasi normalità. Io credo che però bisogna essere un po' prudenti, perché possiamo immaginare questa pandemia che si è realizzata come le onde di un sasso in uno stagno, quindi le prime onde più importanti e poi via via a digradare. Quindi sicuramente, grazie anche e soprattutto alla vaccinazione, vediamo in particolare in Italia e nei contesti anche dell'Europa, ma all'Italia direi siamo messi meglio, come numero di casi quotidiani e giornalieri, una condizione tranquilla. È chiaro che l'inverno ci porta di fronte alla concentrazione di tutti gli elementi di rischio, quindi il fatto di stare a sbalzi termici, stare più al chiuso, le aperture sul lavoro in presenza, la scuola che vogliamo o dobbiamo sia in presenza. Quindi una stanchezza rispetto all'uso, diciamo, di quello che è il nuovo Galateo, che è un po' impegnativo. Quindi, di fatto, io dico, un'ultima, diciamo, spiaggia, un'ultima tenzone c'è per questo inverno e quindi per un'esigenza di buonsenso. Il fatto di avere aperto su tanti elementi dice e ci dà la responsabilità come cittadini di questa, diciamo, continuità di fare le cose, ma senza dimenticarle. Quindi pandemia che è stata veramente con un parallelo di infodemia, con tante cose, diciamo, che in qualche modo hanno creato divisioni. Io all'inizio della pandemia, anche per far vedere Ampas e l'impegno che abbiamo avuto come volontari, sono andato spesso in TV con questa, non con questa felpa, perché poi mi è stato anche preso in giro, ne ho ovviamente una, però per dire la pesantezza della comunicazione, no? E' sempre con una... In questo caso anche del livello della comunicazione. Della comunicazione. E ultimamente però vado, diciamo, solo con la mia spilletta, ma proprio perché c'è un aspetto divisivo e anche sui nostri social. Adesso ci arriviamo. C'è poi questo aspetto non facile. Però fare solo questo cappello, diciamo, l'attualità. Professor Spada, il vostro blog, si chiama Pilloli di ottimismo, siamo al picco dell'ottimismo oggi, sembra di capire. Dal punto di vista dei dati è condivisibile. C'è troppa euferia. No, ma diciamo questo. Il passaggio attuale, anche queste dichiarazioni ottimiste, fanno piacere soprattutto perché, secondo me, recepiscono che il momento comincia a essere slegato dall'incidenza, dal numero. Cioè si comincia, finalmente, aggiungo, ad avere fiducia nella scienza. Cioè non abbiamo bisogno... L'altro giorno parlavo con un giornalista e citavo San Tommaso, no? Non abbiamo bisogno, dovremmo aver bisogno di vedere e mettere il dito necessariamente sui numeri e vedere che questo autunno non sia come il precedente. Dobbiamo fidarci della scienza e capire che con una immunizzazione così estesa non sarà come il precedente. Ecco, questa apertura estremamente precoce, se vogliamo, sulla stagione più temuta, secondo me è testimonia di questo tipo di ottimismo. Un ottimismo ragionato non avventato, frutto anche degli ottimi risultati perseguiti, che avvisi anche chi deve vivere, viva Dio, rilanciare questo Paese che è stato molto fermo, che di spazio avanti ce n'è. Ecco, che finalmente non dobbiamo temere il prossimo lunedì, il prossimo venerdì, che cosa succederà sulla curva di incidenza. Perché noi lo scriviamo da settimane. probabilmente si alzerà ancora questa curva. Ecco, però dobbiamo cominciare, e non è facile, psicologicamente dopo un anno e mezzo legati ai numeri del bollettino non è facile, ma dobbiamo cominciare a capire che noi dobbiamo convivere con questo virus. e quindi anche convivere con l'ipotesi che la curva di incidenza possa avere un qualche rialzo, che ci sia anche qualche ripercussione sugli ospedali, ma che tutto questo sia gestibile e che non possa e non debba più impattare nella vita di un intero Paese. Grazie, grazie professore. Adesso andrei a questo punto a sviluppare un po', riprendiamo la scaletta, insomma, l'ordine degli interventi da curso, adesso parleranno tutti. Direttore, le chiedevo un bilancio di questo anno e mezzo dal punto di vista proprio della comunicazione, la protezione civile come succede spesso in emergenza, ma un'emergenza così duratura è difficile, è stata difficile incontrarla. Lei ha lavorato da tanti anni in protezione civile con diversi incarichi, adesso ha ritornato davvero un incarico apicale. Mi dice una cosa, e questa è una domanda che farei a tutti, dai vostri osservatori, una cosa che ha funzionato bene dal punto di vista della comunicazione, è invece una cosa che ha funzionato male su cui siete dovuti intervenire. La domanda non semplice, nel senso, la prima cosa che vorrei sottolineare è il fatto che io ho fatto il capo dipartimento fino al 2017, poi dal 2017 a quest'anno mi sono occupato di altro in presidenza e consiglio, poi sono tornato a fare il capo dipartimento. perché faccio questa premessa? Perché se le dovessi dire anche in funzione della risposta qual è l'elemento che più ho trovato modificato nell'ambito del sistema è proprio la rapidità di comunicazione. Cioè, se c'è una cosa sulla quale io ho dovuto e sto ancora prendendo in qualche modo le misure, attenzione, noi non sappiamo... Direttore, chiedo una cortesia che credo che giovia alla Regione. Proviamo a guardare verso loro perché sennò risulta poi inerreta. Allora, anche quello che appunto non sappiamo come sarà la comunicazione nelle prossime emergenze diciamo più classiche perché la comunicazione sta avendo una accelerazione dovuta al fatto anche delle modalità con cui questa comunicazione avviene è così importante che mi chiedo come noi gestiremo le prossime emergenze con questa comunicazione istituzionale da una parte che ha bisogno di un coordinamento ha bisogno di una relazione stabile la comunicazione scientifica l'attività operativa la decisione politica sono tre elementi per me molto distinti e invece questa comunicazione chiamiamola diffusa non gerarchizzata dove il parere di Fabrizio Curcio vale su quel tema come il parere del professor Pregliasco quindi dal punto di vista dell'utente è molto destabilizzante questo quindi io devo dire se posso dire una cosa tuttosommata positiva e che non vorrei essere ma questo cosa sta dicendo è che con questa grande vero impatto nazionale e mondiale tutto sommato il tema della comunicazione guardate io non l'ho vista così ci sono state grandissime criticità la polifonia su alcuni temi ma è stata la prima volta che il mondo ha impattato una storia del genere e quindi credo che anche con un po' di serietà noi dobbiamo dire attenzione il tema della comunicazione è un tema che senz'altro ha avuto delle difficoltà nelle varie gestioni perché qua non c'è una gestione sola ma ci sono state diverse gestioni su una tipologia di emergenza simile la prima gestione ha interessato soprattutto una prima parte del territorio nazionale nella prima ondata poi invece c'è stata la parte più diffusa insomma non stiamo parlando di un evento singolo puntuale che ha creato un problema e che poi è stato gestito nelle diverse fasi ma stiamo parlando di un evento che si è modificato nella sua attuazione e che ha generato diverse fasi e chiudo solo con una riflessione se me lo consente il tema ero in un dibattito dove si parlava di comunicazione e c'era giustamente un giornalista che diceva ma voi dovete rendere semplice la comunicazione e io ho detto benissimo mi dica lei cambiamo il ruolo come si fa per esempio su un vaccino che ha cambiato legittimamente in sei mesi 14 modalità di utilizzo che sono state 14 modalità di utilizzo non è che noi abbiamo cambiato perché ogni mattina ci alzavamo e c'era una modalità di utilizzo differente ma perché le autorità che poi hanno delle responsabilità nel momento in cui forniscono certe indicazioni ti cambiano l'indicazione in corsa in 14 cambi in sei mesi come lo comunichi in maniera semplice al cittadino diciamo che il collega è stato furbo nel senso che il compito di semplificare la comunicazione sarebbe in capo alla nostra categoria diciamo più che i taxi ma questa è una battuta le volevo però le volevo chiedere su due aspetti rispetto al ragionamento che ha fatto lei ha parlato di polifonia quanto dal vostro punto di vista c'è stata tutta una fase ce lo ricordiamo io vivo a Milano che si aspettavano le ore 17 perché c'era il collegamento il bollettino della regione Lombardia e poi alle ore 18 c'era il bollettino invece quello nazionale con una sorta anche di competizione un po' implicita diciamo tra i bollettini con i politici che spesso tentavano di mettere sul cappello quindi dal vostro punto di vista di responsabili insomma del dipartimento questo quante difficoltà ha creato e poi una cosa che le devo come dire una sollecitazione che la faccio invece più vicino a quello del mio mondo quello del mondo di vita di vita diciamo di tutto il terzo settore che come dire oggi in questo consenso plasticamente vediamo il peso il peso del volontariato di protezione civile quanto sia importante ecco questo tipo di comunicazione questo le chiedo una riflessione di tipo generale che poi chiederei a tutti questo tipo di comunicazione ha prodotto per quello che riguarda il mondo non prettamente sanitario quindi c'è stata una comunicazione molto molto puntata su quanti erano i covery quanto erano intensivi cosa succedeva negli ospedali tutto quello che succedeva fuori dagli ospedali è rimasto obiettivamente fuori dai punti di osservazione questo cosa succedeva nelle RSA poi alla fine come dire anche per un caso un po' politico qui a Milano si era aperto gli occhi ma cosa succedeva nei centri per migranti cosa succedeva nei dormitori per i poveri cosa succedeva nei centri per disabili il fatto che i volontari non avessero accesso a tutti questi centri tutta questa cosa qua ha prodotto un disagio molto alto che noi abbiamo registrato perché come vita diciamo per natura siamo andati dentro quei posti e le notizie che producevamo quel tipo di notizie che producevamo avevano delle performance altissime perché eravamo gli unici a farlo sostanzialmente e questa cosa qua ha avuto un altro impatto una quota lunga che stiamo ancora verificando adesso che molte delle donazioni di tutta l'attività delle nazioni la protezione civile è stata anche il collettore il 27% delle donazioni nella fase acuta avevano come destinatario il dipartimento di protezione civile il 19% come destinatario degli ospedali in grande parte pubblico questa cosa qua ha lasciato molto scoperta e gli effetti li vediamo oggi tutto il mondo invece tutto il resto del socio sanitario o di altri interventi più sociali questo obiettivo è ovvio che non sia stato fatto in modo strumentale ma è stato come dire un effetto collaterale di cui forse non si è tenuto conto anche a livello di comunicazione cioè non c'è mai stato nessuno che a livello istituzionale diceva attenzione che sta succedendo questo ma le donazioni e vi dico dati reali la settimana scorsa la Roma su un convegno dei volontari nel socio sanitario le donazioni di midollo osso sono calcolate del 60% le donazioni di cenere staminali del 50% questo perché i volontari non si potevano muovere beh ma mica è una domanda questa me ne ha fatte 50 nel senso che adesso proverò come dire essere rapido nella risposta anche per allora intanto voglio premettere io quella prima fase soprattutto l'ho vissuta da cittadino quindi come dire ho vissuto il disagio che abbiamo vissuto tutti noi proprio perché diciamo così in tutt'altra faccenda faccendato ma non per questo non stiamo facendo le nostre analisi che saranno complete quando il percorso sarà completo quindi questo vorrei sottolinearlo secondo punto prova a essere veramente sintetico noi comunichiamo le cose perlomeno come sistema di protezione civile quando si accontezza poi di quello che si comunica guardate ribadisco non ci scordiamo il primo miglio il primo miglio è stato un miglio in cui questo virus non si sapeva neanche bene come si diffondesse non si sapeva bene neanche quali erano le vere situazioni come dire di diffusione non avevamo i dispositivi di protezione individuale per tutti i motivi che tutti noi sappiamo quindi il mio suggerimento è non guardiamo le cose guardiamo le ex post per fare dei ragionamenti di miglioramento ma non non distacchiamoci dal dramma che ha vissuto questo paese è evidente credo io ma qua veramente una mia supposizione da cittadino che la comunicazione si basava su quei dati che erano gli unici dati in qualche modo certi erano i dati della gente che poi purtroppo perdeva la vita con tutta l'approssimazione che c'è stata pure su quello non vi ricorderete ma è morto di covid è morto col covid con tutta quella aggressione corretta perché la gente aveva bisogno di avere informazioni ma uno le informazioni le fornisce nel momento in cui ha chiaro qual è il percorso e il percorso non ce l'avevamo chiaro credo ripeto lo dico da cittadino né noi ma non ce l'aveva chiaro nessuno perché questo non è stato un problema italiano è stato un problema mondiale oggi e io lo dico anche rispetto a chi mi ha preceduto guardate alzarsi la mattina e mettersi di fronte a una telecamera ogni giorno alle 18 e fare la conta di migliaia di persone che perdono la vita non è una cosa semplice io rispetto ai miei predecessori al mio predecessore e a chi ha comunque gestito prima del mio arrivo io avevo luce del vaccino alzarsi la mattina e non sapere che ancora quando si parlava ma il professor Pregliasco lo sa meglio di me a fine del 2000 a settembre dell'anno scorso noi non avevamo la certezza della disponibilità del vaccino e allora quando parliamo di comunicazione di come dire e io anche qua aggiungo alla parola comunicazione un'altra parola che è essenziale che è responsabilità perché se io comunico e do il mio parere e a seguito del mio parere non viene presa nessuna decisione di responsabilità ho detto una cosa forse l'ho presa forse l'ho sbagliato certo ci va di mezzo come dire la mia come dire credibilità come persona come professionista ma se a seguito della mia comunicazione e posizione scaturiscono delle disposizioni o indicazioni che vanno a influire sulla vita dei cittadini e che quindi domani non solo dal punto di vista della ricostruzione ma anche etica personale ma permettetemi che c'è una bella differenza e allora per questo la comunicazione si deve basare su una solida come dire più possibile consolidata perché poi giustamente la scienza noi immaginiamo la scienza come un monolite ma la scienza ha varie posizioni varie sfumature quindi anche appoggiarsi a quella che può essere come dire la scienza più solida più polifonica che poi deve arrivare ad un'indicazione che in qualche modo la parte operativa e il governo poi la parte politica deve diventare attuazione guardate non è un processo facile quindi in questo senso io penso che è una riflessione tra comunicazione evento particolarmente nuovo che ha colpito tutti e responsabilità secondo me va fatta cioè se noi non colleghiamo la parola comunicazione al tema della responsabilità siamo fuori strada perché allora a quel punto ognuno dice la propria dico ma vabbè sì mi sono sbagliato è accaduto anche questo io sì effettivamente pensavo che è successo ma mi sono sbagliato peccato che quando questo lo fai in un percorso di responsabilità e di decisione sul cittadino quel mi sono sbagliato diventa un addebito di responsabilità di una decisione sbagliata come è anche giusto che sia ma soprattutto anche una questione etica ma quel mio errore quanto danno ha comportato quindi dobbiamo stare attenti su questo tema mi ha fatto la seconda domanda al quale tengo molto e sarò veramente rapidissimo il sistema di volontariato come sempre nel nostro paese ma anche qui ad Areas si può vedere in maniera chiarissima andando in giro Fabrizio è il presidente di un'associazione nazionale importantissima ce ne sono altre e altrettanto diciamo importanti è la nostra struttura sociale perché poi alla fine anche sui temi di vaccinazione siamo finiti nel sistema di protezione civile perché il sistema di protezione civile nella sua diversità perché noi lo interpretiamo in maniera uso un termine che forse non si usa in italiano chiedo scusa bellamente italica non lo so perché veramente ogni realtà regionale ha il suo modo di interpretare il proprio volontariato perché è frutto di quell'esperienza sociale e culturale ecco però che funziona dappertutto l'altro giorno avevo una delegazione straniera come dire in visita al dipartimento e quando mi chiedono del volontariato rimangono un po' basiti dicono ma noi non ce l'abbiamo cioè che uno prende il tempo libero si mette la tuta va fa il corso di formazione si impegna no magari hanno i vigili volontari i vigili del fuoco volontari quelli che accade in molti paesi ma il volontario in quanto tale è un'esperienza direi italica quindi è importante come è importante in tutte le emergenze e io sono particolarmente riconoscente ed orgoglioso come capo dipartimento che sia stato sostanzialmente anche un nodo cruciale del tema della vaccinazione questo magari a livello di comunicazione si poteva si poteva spingere spingere di più la sua valorizzazione tra l'altro lo dico visto che Curcio ha fatto questa bella sottolineatura come vita insieme a tutte le organizzazioni del nostro comitato editoriale fra cui appunto anche anche Ampas tante riprotezioni civili le miserie ricordie insieme a un csv di Padova di Padova e Rovigo abbiamo lanciato proprio in questi giorni la campagna per il riconoscimento del volontariato come patrimonio immateriale dell'umanità presso l'UNESCO quindi faremo faremo stiamo costruendo il dossier che presenteremo da qui a un anno una campagna che durerà 12 mesi Fabrizio Pregliasco presidente di Ampas virologo una start televisione rispetto a cosa ha funzionato cosa ha funzionato tu hai fatto un po' il frontman insieme ad altri quanto è stato hai fatto degli errori sono cose che funzionano meglio hai mai avuto dei ripensamenti perché immagino anzi lo so perché ce lo siamo credati che anche dal punto di vista come dire delle performance fisiche è stata una cosa parecchio complicata beh è stato sicuramente complicato proprio perché l'ospedale di Chiedirigo Lampas e poi appunto tutto l'insieme del volontariato era ovviamente in crisi ed è stato questo un po' la peculiarità della protezione civile che ci siamo detti anche noi spesso noi siamo andati in un cratere però arrivavamo da casa tranquilli qui invece era a casa il problema e quindi questo è stato un elemento spiazzante io dico che questa emergenza Fabrizio l'ha ben evidenziato ha messo in evidenza quello che diciamo non si sperava non si immaginava e da lì è cresciuto cioè che la ricerca la medicina non dà delle risposte immediate certe tra il Tg di mezzogiorno e il Tg della sera l'infodemia complessiva però richiedeva e ha richiesto una quantità industriale di comunicazione perché è un unico argomento per mesi e quindi in questo senso come sempre le notizie più brutte le notizie più tristi sono quelle che fanno più presa e che sono come dire in qualche modo evidenziate perché oltretutto lì c'era la paura ricordo che proprio ero in trasmissione in diretta mentre la prima chiusura a Codogno e c'era quasi come dire un certo voglierismo nella giornalista che era lì diceva ecco arrivano le camionette vedete i militari con i mitragliatori e cosa che questa ovviamente creava un'angoscia io credo che però il punto è questo ci hanno massacrato diciamo nella categoria virologi sarebbe da raccontare perché virologi ed è colpa mia perché io ho una certa diciamo presenza mediatica stagionale sull'influenza ce l'avevo e io sono un igienista però all'epoca da anni ormai igienista era un argomento una specialità un po' strana però sono e ancora adesso nell'istituto di virologia dell'università e quindi virologo dava un'idea come dire più importante igienista sembra uno che si deve lavare le mani ed è vero facciamo questo ed è fondamentale però in realtà poi si è capito che ci sono specialisti di ampissi di variegata diciamo competenza che tutti sono più o meno specialisti è chiaro che qui si è inserito molto spesso qualcuno che ha lo diceva Fabrizio ha parlato senza considerare gli effetti di ciò che andava a dire magari cose anche non ragionevoli ma dubbi problematiche ma non è facile in questo senso perché si finisce poi di dare di creare confusione anche in questo momento purtroppo viene fuori da parte di opinionisti o di colleghi questo vaccino sperimentale io in alcuni casi ho anche un po' litigato in questi casi perché la paura che un messaggio questo vaccino sperimentale si va avanti rimane in quel rumor che poi ha creato questi aspetti divisivi che accennavo nel passato dove anche sui social che ormai utilizzo solo per raccontare cose di Ampas arrivano bordate di negatività sulla vaccinazione sul fatto che sono ovviamente un propugnatore della vaccinazione quindi davvero l'emozione che è stata enorme vedete le onde che sono state e onde di emozione la vaccinazione antinfluenzale non c'era oddio non ce n'era non ce n'era abbastanza chissà come va la Lombardia che pasticcio l'RSA io mi sono occupato del più albergo Trivulzio nel momento emergenziale luogo criminalizzato ingiustamente rispetto a una situazione che è stata propria di tutte le realtà RSA del mondo non di Milano o della Lombardia ma del mondo ma vissute con quella emozione che ci coinvolge e che coinvolge tutti e soprattutto in questa constatazione che appunto la ricerca va avanti a step successivi attraverso un meccanismo che è anche quello di scambiarsi opinioni si scambiano opinioni fra esperti si fanno delle valutazioni dei tentativi delle valutazioni che possono essere negative o positive rispetto all'ipotesi ma si va avanti così con una tempistica che è quella difficile il vaccino ha avuto una velocità incredibile di disponibilità però tutto questo gli si è riversato contro troppo in fretta genetica che quindi fa pensare da quella plausibilità a voci negative che poi sono sicuramente l'aspetto dei social divisivi per definizione e che quindi hanno sicuramente contribuito e anche i talk televisivi spesso siamo stati messi tra più esperti e servono quei talk nella politica per distinguere e far comprendere visto che i comizi sono meno frequenti comunque complessivamente sono luoghi per confrontarsi su altri argomenti su argomenti diciamo tecnico-scientifici diventa un'esposizione che fa paura e quindi da un momento iniziale dove si pensava potessimo essere taumaturghi e soprattutto risolutori nel breve di un qualcosa che invece abbiamo fatto capire che invece seguivamo con dei tempi che non sono quelli della speranza di ognuno di noi di fronte a qualcosa che si è capito essere emergenziale e micidiale e soprattutto poi in Italia con un luogo non a caso una Lombardia un luogo e siamo qui a Brescia insieme a Bergamo luoghi che sono stati per tanti motivi che ora si comprendono l'epicentro diciamo in seconda battuta rispetto all'epidemia e quindi tutta quella negatività e quella sofferenza per cui in questo momento sono andato anche alla Digos a denunciare molte persone che mi insultano pesantemente insultano è carino merdaccia è una cosa carina un po' come fantossima che poi arrivano a tanto che è purtroppo io dico un elemento di individuazione di un capo respiratorio rispetto a cercare una negazione di quello che è stato di quello che invece è legato alla sofferenza trasversale che tutti noi abbiamo di insicurezza del futuro di paura dell'aspetto economico e del fatto che magari dentro a tutto questo ci si guadagna tutto questo retropensiero che in qualche modo cerca di far nascondere e far come dire vivere quella che è la sofferenza di ognuno di noi in una emergenza di protezione civile che ci colpisce tutti complessivamente grazie grazie Fabrizio Pegliasco passare il microfono a Paolo Spada io partirei proprio dall'esigenza di far nascere l'esperienza di pillole di ottimismo e da quell'osservatorio come hai visto l'evoluzione di questi mesi dal punto di vista proprio della comunicazione ma io l'ho visto come un utente qualsiasi io sono un medico ma in realtà l'ho vissuta all'inizio l'ho vissuta come chiunque altro davanti a una valanga che scendeva però ecco vorrei far notare che in questi ultimi minuti abbiamo assistito al classico cortocircuito comunicativo covid un giornalista che fa dire alle istituzioni cosa è andato male nella loro comunicazione ma allora cominciamo a fare il percorso inverso perché io sono d'accordo con l'ingegner Curcio la responsabilità è una cosa importante io non avrei mai voluto essere al posto di chi doveva dare quei numeri ma di chi doveva gestire quel problema in quel momento mi riferisco alla primavera del 2020 la responsabilità delle scelte poi certo anche della comunicazione adesso io con molta indulgenza non punto il dito certo ho scritto molte volte che c'è stato un atteggiamento da parte delle istituzioni forse un po' troppo prudente forse un po' troppo intimorito di dare il messaggio del libero a tutti magari qualcuno avrebbe anche preso quel messaggio troppo leggermente ma c'era tantissima altra gente che aspettava semplicemente un po' di empatia ecco però ribadisco questo non è il momento di mettere il dito in ciò che è stato fatto dalle istituzioni cominciamo a pensare cosa è stato fatto dai media dai giornalisti che quella responsabilità ce l'avevano anche loro ma non se la sono presa in gran parte dei casi non se la sono presa hanno fatto business as usual ok? questa è la sensazione che abbiamo colto io personalmente ma tanti lettori cioè la sensazione che il giornalista comunque va a caccia della notizia che deve vendere perché vende un prodotto tutte le sere vende la sua notizia e allora amplifica le divisioni tra le parti politiche amplifica le divisioni nella scienza che pure ci sono ma perfino nei numeri signori io praticamente non ho fatto altro che guardare i numeri no? tra un paio d'ore ancora oggi smettiamo di parlare al passato ancora oggi tra un paio d'ore esce il bollettino ma a voi vi sembra possibile che dopo 18 mesi da tutti i TG perfino dagli all news dalle radio da tutti i siti che passano queste notizie noi dobbiamo sorbirci il numero dei nuovi positivi il numero dei nuovi decessi del giorno con questa che mi dice i decessi delle ultime 24 ore sono stati 45 in aumento rispetto al giorno prima allora se non vi è chiaro quelli non sono i decessi delle ultime 24 ore ok? sono i decessi delle diverse settimane sì qualcuno appena deceduto entra in quel conto ma in gran parte sono conti che si fanno nelle settimane purtroppo il paragone con le 24 ore precedenti non ha alcun significato non ce l'ha nemmeno quello dei nuovi positivi perché i nuovi positivi risentono ovviamente del numero dei tamponi che come voi saprete perché lo sanno tutti e perciò nonostante si va avanti a fare questa manfrina del in aumento in riduzione rispetto alle 24 ore e allora l'ascoltatore medio che è a casa cosa capisce della tendenza di questo contagio cosa ne ha se tutti i giorni si va su poi si va giù poi si va su poi si va giù se voi prendete quei numeri li mettete in un grafico una sega ha un andamento più lineare perfino il famoso indice di positività che vorrebbe essere un piccolo rimedio no? perché divide per il numero di tamponi e quindi ma anche l'indice di positività continua a balzare su e giù e tutti i giorni però l'indice di positività è diminuito e si è aumentato è diminuito non c'è nessuna linea di tendenza la media mobile a sette giorni questa sconosciuta ma io mi domando se le testate giornalistiche italiane non abbiano almeno una persona che ha studiato la matematica delle medie e che sappia mettere sette numeri e fare la media no? così si dà il trend senza l'oscillazione dovuta al fine settimana in cui come sapete tutti si fanno meno tamponi si fanno tamponi a casi più sintomatici e quindi tutto si sballa e vado a oltre già che facciamo la media su sette giorni diamo il dato di incidenza cioè non il numero assoluto dividiamo ogni centomila persone perché noi per 18 mesi ci siamo sentiti dire la Lombardia è la regione più colpita ormai ci eravamo abituati fin dal primo mese e tutte non è vero niente è semplicemente che ha il doppio degli abitanti di qualsiasi altra regione italiana ma a voi vi sembra normale che tutte le sere ci dobbiamo cuccare il numero assoluto dei nuovi positivi e dei decessi senza metterli in relazione a quanti abitanti ci sono in quelle regioni oltretutto scotomizzando totalmente che quei dati nascondevano invece delle informazioni preziose noi per mesi monitoravamo i nuovi positivi per provincia e vedevamo che c'erano delle province che esplodevano la regione mediamente magari non era ancora invasa quindi il colore della regione non cambiava perché il modello di gestione era a regione e andavamo avanti così fino a che il contagio dilagava totalmente è successo anche a Brescia mi ricordo benissimo in primavera quando è partito il Veneto per continuità è arrivato alla zona di Brescia e Brescia ha fatto dei numeri di incidenza altissimi nessuno ha mosso niente fino a che tutta la Lombardia è stata coinvolta questo per dire che la comunicazione dei numeri ma sapere cosa guardare il valore di incidenza cioè il numero dei casi in sette giorni per centomila abitanti io faccio il chirurgo vi faccio notare sta roba io non mi occupo di queste cose però semplicemente so usare Excel e mi sono messo a farlo e con grandissima mia sorpresa ancora dopo diciotto mesi la gente è venuta a leggerli da noi perché d'altronde dove altro c'è quindi cominciamo a chiederci quali colpe ha la categoria dei giornalisti posso dire una cosa come no ognuno poi è responsabile delle cose che fa quindi vuol dire tante cose che hai detto che hai detto non ce l'avevo con te no no ma figurati ma figurati occhio che i giornalisti poi sono anche quelli che fanno le comunicazioni istituzionali quindi è giusto è giusto il rilevo che fai però i giornalisti non sono solo quelli che stanno dall'altra parte della conferenza stampa sono anche quelli che stanno da questa parte allora perché qui i dati scorporati analizzati così non vengono forniti direttamente dal giornalista che cura la comunicazione del ministero della salute per dire certo però se lo faccio io se lo fai tu infatti tu lo fai se lo faccio io lo può fare anche il Corriere della Sera Repubblica Rai News 24 Radio Capital non c'è tutto se vogliamo discutere della picrizza dei giornalisti sfondi una porta aperta questa risposta posso inserirmi scusa questa risposta posso darla io perché è la stessa informazione che quando succede qualunque tipo di tragedia la prima domanda è quanti morti e tu stai ancora lì dicendo guarda non lo so stiamo cercando allora sono dieci no non sono dieci allora sono dodici no non sono dodici non lo sappiamo possiamo dimensionare e va nel discorso che diceva il professore prima il dottore prima cioè siccome bisogna dare la notizia allora anche la comunicazione istituzionale si piega a un certo punto ma questo è un errore dopo 18 mesi possiamo dire che è stato un errore possiamo dire che è stato un errore perché uno può dire io quanti sono non lo so non lo so è stato un errore come un errore e questo lo dico perché ci combatto quotidianamente ad ogni emergenza la battaglia del numero di chi ha perso la vita è una battaglia anche al di là del covid è proprio un'impostazione è come quando c'è un terremoto la dinamica tra il 5.8 e il 5.7 polemiche ma avete detto che era 5.8 invece 5.7 io dici guarda c'è un problema di tecnica quella è una magnitudo momento ecco dato falso ma che te frega a te se è 5.7 5.8 andiamo a vedere quello che è successo c'è una sorta di non voglio difendere nessuno e nessuno sta accusando nessuno perché non è un problema del giornalista è un problema della morbosità generale di tutte le categorie di dare l'informazione e quella informazione la devi dare però direttore diciamo che diciamo che quando succede no no ma è giusto così l'avevamo costruito proprio che fosse una cosa dialogata diciamo che fa parte come dire se volete anche della curiosità umana o dell'impattione sapere se succede qualcosa che tipo di effetti ha provato ma qui non stiamo dicendo che non bisogna dare le notizie stiamo dicendo che bisogna dare il contagio non è un'oscillazione è una macchia d'olio ok basta semplicemente fornire il dato che maggiormente rappresenta il contagio che è qualcosa di continuo che poi scende e se scende continua a scendere non è che il giorno prima saliva poi il giorno dopo scende poi di nuovo sale in termini anche di competenze perché questa cosa ha disorientato tantissime persone tantissime persone adesso passare ha concluso? si si no grazie aggiungiamoci che adesso come dire in questo intreccio cioè la comunicazione istituzionale la comunicazione medico-scientifica non l'abbiamo accennata magari Lombardi adesso a cui passo la parola che credo che sia siamo entrati in pieno nella sua materia c'è la comunicazione politica perché poi bisogna anche pensare quanto la politica il caso del trivulzio che Pregliesco conosce bene da questo punto di vista è stata una cosa che grida vendetta il terrorismo che è stato fatto contro gli operatori del trivulzio per quello che succede dentro il trivulzio però professor Lombardi ricordo che è sociologo della cattolica dirige la scuola di giornalismo e però è anche un esperto di comunicazione del conflitto di comunicazione mondiale direttore di It's Time prego sì e molti di loro mi ricordano perché per dieci anni ho diretto alla scuola superiore di protezione civile in regione Lombardia dove da 30 insegno crisis management della comunicazione quindi forse si rimandano più a questa anche se ho i capelli lunghi una spanna in più rispetto a quanto mi ricordate due anni fa molto interessante quello che è stato detto e io non posso che continuare ad affermare la mia piena fiducia in Fabrizio Curcio finalmente che che ha detto delle cose verissime durissime con tutta l'attenzione che che è necessaria nel ruolo istituzionale che che ricopre lo apprezzo tantissimo io libero da queste cose sono molto più più brutale e voi lo sapete no? Poco da fare ehm i diciotto mesi della comunicazione del covid sono stata la più deleteria delle comunicazioni di crisi a cui abbiamo mai assistito le cui ragioni si alternano tra l'incompetenza e la criminalità dipende no? Sono possiamo scegliere tra le due questioni e qui entrano in gioco un po' tutti chi aveva la responsabilità di orientare ehm le scelte chi governava la crisi chi la crisi ehm la comunicava ehm indubbiamente i giornalisti e quel mondo fondamentale che è il mondo della scienza che aveva un ruolo importante per comunicare la protezione civile in quel contesto è stata l'amico Agostino che è mi perdoni non un po' l'utile idiota in certi in certi momenti di altre dinamiche che le andavano che le andavano che le andavano sopra giustamente il direttore ha ricordato che è stato un evento unico è vero o noi ogni volta le nostre procedure prevedono un'area sicura e un intervento in hotspot qui non c'erano non vittime partite da questo presupposto per la prima volta nella storia degli interventi non esistono non vittime quindi non abbiamo una safe house tutta la prospettiva con la quale abbiamo costruito procedure non funziona più questa è una prima considerazione importante la seconda considerazione importante è che non è vero che non avevamo le procedure questo ci interroga dall'86 in poi da dopo Chernobyl le procedure per la comunicazione di crisi ci sono e sono chiarissime e sono evidenti il direttore ha detto una cosa importantissima oggi le cose funzionano perché non c'è più dissonanza verissimo e perché c'è una procedura stabile non c'è più dissonanza perché non c'è più dissonanza perché quel evento unico è stato indubbiamente sottostimato e nella sottostima di quell'evento si è cercato di sfruttarlo indirizzandolo rispetto a quello che fosse l'utilità non di gestione della crisi ma utilità del fenomeno che girava intorno alla crisi questo è un dato ed è così che nasce la governance istituzionale della pandemia in questo entra sicuramente in gioco quello che noi sapevamo essere un tesoro incredibile che è la comunicazione scientifica tutti voi avrete con me discusso delle ricerche che si fecero cominciare negli anni 90 su questo dove appariva chiarissimo che gli scienziati coloro i quali vestisse un qualunque camice bianco un cappello duro o quel che intendo un caschetto erano quelli che non avendo interesse nel particolare nella cosa bucavano il video purché non entrassero in contenzioso tra di loro è stato sconvolgente quello che è stato fatto è stato artatamente fatto di costruire delle tifoserie mettendo in gioco tra di loro gli scienziati che indubbiamente non erano d'accordo ma la comunicazione di crisi non chiede di essere tutti d'accordo chiede di capire quali sono quelle minime cose su cui tutti possiamo essere d'accordo per dare una visione univoca dunque non dissonante a un pubblico che è vittima di una situazione nella quale dobbiamo costruire quella resilienza nel pubblico perché almeno se la cavi da lì al prossimo step comunicativo che abbiamo già preventivato non andiamo da nessuna parte mentre chi doveva governare la cosa ha costruito tifoserie lasciamo perdere poi virologi o quant'altro che immediatamente hanno vestito paillette e tacchi alti hanno giocato a fare le subrette cazzo per la prima volta in televisione non ne uscivano più e hanno cominciato a confrontarsi l'un l'altro su questo i giornalisti indubbiamente hanno giocato tantissimo ma fa parte del loro lavoro io sono il primo a dire come direttore della scuola del giornalismo e a richiamare il tema della responsabilità è fondamentale perché è alle radici del problema del giornalismo moderno il fatto di nascondersi dietro all'idea che siccome è un'informazione devo darla a me non interessano gli effetti sciocchezza è una forma di de-responsabilizzazione pericolosissima nella quotidianità nel crisis management della comunicazione è ancora più terrificante tutto questo perché noi sappiamo che la comunicazione di crisi è una strategia cioè ha un obiettivo specifico che è quello di aiutarti a sopravvivere al meglio a cavartela quindi la responsabilità c'è è durissima ma se loro non ce l'hanno io istituzione che ho il dovere di governo li richiamo a quella è mio compito farlo scusate abbiamo parlato per vent'anni o trent'anni prendendo ad esempio l'ESP il piano di intervento della grande città di Londra in situazione di emergenza dicendo come dal 95 attivato poi coi bombaroli del 2005 come media istituzioni devono tra di loro coordinarsi per risolvere un certo tipo di problema non l'abbiamo mai fatto ma abbiamo sempre sottolineato la necessità di coordinamento abbiamo anche dimostrato il fatto che in fin di conti se noi provvediamo all'informazione giusta come istituzione ai media i media sono solo felici perché è come se noi regalassimo i panini fatti al panettiere che deve venderli quindi i media vanno a riempire come sempre dei vuoti rispetto a dei bisogni che qualcun altro avrebbe il dovere di riempire su questo ci interroghiamo allora con le istituzioni di governo che sto separando dalla protezione civile che è uno strumento rispetto a chi ha il compito della governance sto sicuramente sottolineando di più la responsabilità dei media che d'altra parte hanno fatto il loro lavoro anche se in certi contesti business business non è più accettabile il proprio lavoro deve essere rivisto alla luce di un bene comune ma forse questa è un tema culturale che manca che manca da noi chiudo per non andare oltre ormai si fanno ore di questo su un altro punto che trovo importante che è attenzione perché mi hai stimolato su comunicazione istituzionale comunicazione politica tutto questo è vero ma la comunicazione di crisi è ancora altro purtroppo siamo sempre all'interno di quelle di quei circuiti per cui si dice ancora che si nasce imparati a comunicare è una cosa empatica non è vero balle la comunicazione si apprende è una scienza e ogni comunicazione ha delle sue specificità la comunicazione di crisi non è né politica né mediale né istituzionale né altro è comunicazione di crisi e ha delle specificità molto molto chiare soprattutto in un contesto sollevato ancora da da Fabrizio Curcio è che fa la grandissima differenza l'unica vera grande differenza con Chernobyl che è una completa sovra una completa diversa struttura della comunicazione perché oggi siamo in un mondo digitale allora vivevamo ancora in un mondo analogico e la digitalizzazione richiede competenze in out completamente diverse sulle quali si è necessario è necessario riflettere in questo momento ed è l'utilità di questo convegno e quelli su cui vorrei ci si soffermasse ancora non è più quella come abbiamo fatto finora di evidenziare dei fatti per le cose che non sono andato bene ma credo che sia doveroso e richiamare le responsabilità per trovare le soluzioni perché possiamo aspettare altre crisi simili e comunque se anche non crisi simili in termini di stressore che la generate comunque una esperienza comunicativa che come sappiamo l'esperienza non si può far delete cancellarle un'esperienza comunicativa che va a segnare qualunque comunicazione di una crisi indipendentemente dallo stressore nel prossimo futuro e questa è una riflessione che per chi si occupa di protezione e difesa civile che credo sia importante da cominciare a portare avanti a bocce ferme con calma ma senza aver paura di sollevare sollevare insomma veli in questo momento grazie 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 professor Lombardi un altro esperto di gestione di comunicazione della crisi Luca Puleo che è anche responsabile di Ampas Lombardia e quindi diciamo ha una duplice competenza da una parte l'expertise sulla comunicazione e dall'altra però è anche un volontario che ha gestito la crisi di questo anno e mezzo nella regione maggiormente colpita perché come giustamente dice Spada è la regione che ha almeno il doppio di abitanti del Lazio quindi gioco forza statisticamente non poteva che essere così sì aggiungo una cosa a quello che stava dicendo adesso il professor Lombardi che è giustissimo ed è uno dei motivi per cui abbiamo organizzato questo incontro con queste modalità con queste tempistiche cioè adesso e con questo argomento la crisi l'emergenza non finisce quando abbiamo tirato fuori l'ultima persona dalle macerie per fare un paragone con il terremoto che tendenzialmente è da letteratura il caso magico e chiaro per un'emergenza nazionale di protezione civile non finisce quando la polvere si è posata quello è la fine del fronteggiamento dell'emergenza della fase acuta ma ci sono delle azioni che vanno fatte prima si dice in tempo di pace quando la crisi non c'è ed è la coprogettazione la coprogrammazione la formazione l'informazione dei protagonisti degli attori e della gente si si è della gente che è l'utente finale del nostro intervento e ci sono delle azioni che si fanno dopo questa che stiamo facendo oggi è un'azione che si fa dopo è quella che nel mondo latino e nel mondo italiano c'è sempre un po' paura a fare perché come stava adesso dicendo il professor Lombardi quando bisogna fare un debriefing quando bisogna fare un'analisi di cosa è andato bene o di cosa non è andato bene c'è sempre la paura che si voglia individuare di chi è la colpa e si voglia indicare un dito quando queste cose si fanno anche nei processi aziendali che al loro interno hanno le divisioni di risk management le grandi multinazionali nelle sedi italiane ci sono i dirigenti che si nascondono sotto il tavolo perché creano la paura di essere tacciati come responsabili no questo è un processo formativo che deve servire per la prossima crisi come si stava dicendo è un ragionamento che deve basarsi sul passato cioè su quello che è successo per prendere delle informazioni degli indirizzi utili per la crisi futura per fare in modo che ricordandoci che ogni crisi è diversa da un'altra ma ci sono delle costanti comuni nella propria gestione la prossima volta non si faccia in questo modo quindi l'importanza di quello che stiamo facendo oggi e anche del dibattito che c'è è proprio frutto e figlio di questo deve dare questo risultato aggiungo un'altra cosa che mi ha stimolato dai vari interventi che ci sono stati tu hai fatto una domanda iniziale che era un elemento della comunicazione che è andato bene e un elemento che poteva essere migliorato dico io un elemento che è andato bene a mio modesto modo di parere di vedere è che le informazioni in Italia sono girate c'erano poi magari non si riuscivano a vedere bene venivano presentate in una modalità che poteva essere migliorabile doveva essere migliorabile ma c'erano voi ricordate non dimenticate che ad oggi noi per esempio non sappiamo ancora cosa sia effettivamente successo in Cina che è il motore di questa epidemia e pensate se una corretta e trasparente informazione di quello che stava succedendo che era successo nell'autunno del 19 fosse giunta all'organizzazione mondiale della sanità e fosse stata trasmessa o fosse giunta alle cancellerie dei nostri stati noi a dicembre gennaio avremmo potuto impostare un'attivazione o una realtà di lavoro completamente diversa e se pensiamo in piena pandemia alle posizioni e torniamo sul ragionamento della responsabilità anche politica per esempio pensiamo al Brasile e al presidente brasiliano e alla posizione che ha tenuto negazionista fino a un certo punto cosa ha comportato in termini negativi per il proprio paese e entriamo anche in democrazie occidentali pensiamo agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna torniamo indietro come diceva Curcio noi ci fossilizziamo su quello che è successo ieri ma ci dimentichiamo quello che c'era l'altro ieri ricordiamo il diverso approccio che c'è stato anche su questo tema dalle varie cancellerie internazionali l'Italia ha avuto un approccio da un punto di vista medico da un punto di vista sanitario e di conseguenza anche istituzionale che soprattutto nella prima ondata è stato un approccio a mio modo di vedere efficace e in questo anche nella capacità di far circolare le informazioni seppur veicolate con modalità che indubbiamente sono da migliorare un aspetto negativo è proprio questo e come si stava dicendo la capacità di non saper riconoscere i diversi stili i diversi livelli della comunicazione degli scienziati degli addetti ai lavori hanno delle modalità di dialogo tra di loro che sono normali nel loro mondo accademico e ci sta che ci siano degli scienziati che a fronte di un virus sul quale non si sapeva praticamente nulla si confrontassero anche portando posizioni opposte questo è un modo scientifico anche di lavorare ma è chiaro che nel momento in cui io uso questa modalità di linguaggio parlando con la gente comune o io spiego il metodo che sto utilizzando o la gente non capisce o la gente pensa esattamente il contrario cioè ma non sono d'accordo nemmeno loro e allora vuol dire che proprio o ci stanno dicendo bugie non ci stanno dicendo la verità oppure sono talmente col sedere per terra che non sanno nemmeno loro cosa dire se a questo aggiungete il fatto di quella bulimia o di quella infodemia cioè di quella necessità di dover per forza dare delle informazioni ecco che si arriva in un cortocircuito in cui siamo stati una nazione in cui le informazioni c'erano le informazioni venivano date in cui c'era un governo e delle istituzioni che efficaci o non efficaci non entro in questo ma hanno saputo prendere delle misure fin da subito che parlavano con la lingua sola a differenza di altre nazioni in cui c'è stato un grosso conflitto nelle cose da fare a fronte di questi elementi positivi e poi ce ne sono stati altri quali questi negativi dopodiché la responsabilità di Fabrizio in quanto virologo che parla con un linguaggio e si confronta con Bassetti e hanno delle posizioni leggermente diverse dove si ferma? Cioè dove si ferma la responsabilità sua nell'usare quel linguaggio o nella capacità di filtraggio da parte delle istituzioni che devono dire va bene voi siete degli scienziati avete detto la vostra adesso parliamo noi e diciamo la nostra versione quindi questi sono elementi secondo me che sono fondamentali che ci fanno dire come indubbiamente da questo noi possiamo cogliere degli insegnamenti per domani grazie grazie Luca abbiamo tempo per 5 minuti a testa per un secondo giro partirei da Fabrizio Fregliasco continuando il nostro dialogo mi verrebbe da chiedere ma adesso faccio l'esempio la persona Luca Puleo ha citato Bassetti potremmo citare chiunque ma nella comunità scientifica prima di salire nel palcoscenico non c'è un momento uno spazio non c'era non ci potrebbe essere di confronto prima ma anche semplicemente una telefonata con Bassetti andiamo tutte e due stasera alla 7 occhio a quello che diciamo beh abbiamo una chat in realtà tra di noi effettivamente una chat che ci serve più che altro per diciamo coinvogliarci dei materiali degli articoli sono un po' scambi di figurine tra virgolette termini appunto di articoli e di informazioni che ci derivano ed è sicuramente stato un elemento utile nell'ottica poi effettivamente ognuno di noi è stato coinvolto in modo del tutto indipendente quindi senza una strutturazione e poi anche qui con questa diciamo difficoltà di costruire una comunicazione in modo organico direi che l'elemento è stato quello di questo unico motivo unico argomento da affrontare rispetto a qualcosa che ci spaventava ecco ribadisco un po' quel concetto di prima che è questo cioè tutti angosciati spaventati e sulla base di questo la comunicazione diciamo così generale è quella di far prevalere quelle notizie negative l'esempio macroscopico è quello della vaccinazione e degli effetti negativi della vaccinazione che ci sono e non si possono che negare perché i vaccini non sono caramelle però anche qui l'elemento positivo del vantaggio oggettivo che stiamo misurando perché siamo qui sostanzialmente in questa sala ancora con le mascherine con un po' di attenzione ma ci siamo e siamo in un magnifica occasione anche di confronto e di toccare con mano gli strumenti le strumentazioni per l'emergenza e la protezione civile quindi questo Reas che ci accoglie ringraziamo per questa opportunità è elemento che è stato determinato dalla vaccinazione questo però è elemento difficile da far passare per quello che è un problema generalizzato fin da Jenner nel 1800 dell'approccio della prevenzione perché finché abbiamo un mal di testa feroce ingurgitiamo qualsiasi cosa e accettiamo quel rischio beneficio la vaccinazione è qualcosa che appunto è stata diciamo così non supportata nel modo adeguato ed è stato elemento che ha concentrato poi gli aspetti delle tifuserie che è l'elemento emergenziale i vari onde della negatività sono state non c'è vaccino antinfluenzale non ci sono mascherine vediamo punti fermi delle attenzioni non c'è il vaccino oppure c'è e non ce l'hanno gli altri lo vogliamo prima lo vogliamo dopo e poi ora un elemento che non è facile da comunicare in questo senso io dico c'è stata una comunicazione che è forse impossibile da coordinare aveva ragione Luca noi la trasparenza c'è la comunicazione c'è la difficoltà è l'interpretazione e io dico il ruolo dei social che sono quelli che hanno devastato come dire anche poi gli effetti perché i social sono sostanzialmente volutamente ne emergono anche testimonianze in questo senso legate a una comunicazione che è divisiva perché solo così si fanno like solo così si fanno comunicazioni e si è persa quell'autorevolezza istituzionale che è difficile perché il medico fuori dal coro in questo momento va di moda perché diventa un testimonial che è quello che dice la verità è quello che risolve il problema che dice che c'è la cura ed ha paccate di farmaci che fanno solo male e non promettono la guarigione perché è vero poi questa patologia questa difficoltà comunicativa di base è una patologia banale quasi un'influenza alcuni colleghi erano stati contestati in questo senso ma proprio perché la comunicazione ha enucleato nel loro ragionamento questo aspetto che è vero è una parte della verità la patologia nella stragrandissima maggioranza dei casi è banale purtroppo percentualmente a seconda della dimensione complessiva del dato della presenza della massa di soggetti che sono malati infetti determina delle situazioni pesanti e da qui davvero la difficoltà di poter dare una risposta una risposta che sia come dire non di rassicurazione o di ma lo diceva Lombardi prima di comprensione della resilienza ecco su questo io non ho idea come come poter realizzarlo in un'ottica democratica dove tutti devono e possono parlare per cui adesso va di moda metterci a confronto non più fra esperti ma tra chi è la parte della scienza ufficiale e qualche fuori di testa fra i colleghi oltretutto è drammatico questo che però vengono messi in evidenza perché hanno delle idee balzane e usano farmaci per i cavalli per curare e fanno ascolti e fanno ascolti e quello è fatto se poi uno si può anche imparare a dire di no a un certo punto Fabrizio Curcio anche cinque minuti assolutamente libero anche di fare una riflessione finale rispetto a quello che ha messo mentre una cosa scusate volevo dire altre due cose uno che è un altro elemento di cui bisogna tener conto tornando indietro e che quella fame di notizia è altrimenti anche che eravamo tutti a casa e tutti attaccati al computer è una situazione del genere carica di ansia anche poi chi queste risposte deve darle quindi mi rendo conto della difficoltà e l'altra cosa che spesso poi chi fa il mio lavoro lo sa i meccanismi di ingaggio soprattutto all'inizio i meccanismi di ingaggio diciamo degli esperti erano meccanismi di ingaggio rispetto al numero di telefonino che tu hai nella tua agenda molto banalmente non c'era uno screening dal punto di vista della competenza scientifica quindi Fabrizio Pegliasco presidente di Ampas aveva una serie di relazioni che gli hanno poi essendo un virogo e così è stato peraltro quindi forse un ragionamento anche sul curcio si è parlato di formazione adesso che le cose si stanno un po' calmando forse come dire favorire anche un contatto oggi con il mondo della comunicazione in modo tale di prepararsi a una prossima emergenza può essere pandemica ce lo dicono che potrebbe tornare per essere più preparati e avere anche come dire un dialogo forse anche più sereno meno onsiogeno allora grazie perché la discussione è veramente stimolante ci sarebbe bisogno di 16 giorni chiusi qua dentro poi ne rimarrà solo uno come diceva quel famoso film io per rispondere alla sollecitazione faccio riferimento un po' quello che diceva il professor Lombardi e quello che diceva Fabrizio Pegliasco cioè noi dobbiamo metterci d'accordo sul fatto che al netto della pandemia la comunicazione scientifica di per sé è affetta da una certa incertezza perché la scienza ha una sua incertezza e tra le altre cose questa incertezza è variabile non è una percentuale come dire variabile ma qua non c'è bisogno della pandemia basta gli avvisi meteo che per anni si comunica stavolta ci hanno azzeccato stavolta non ci hanno azzeccato non è una questione di azzeccarci di azzeccarci è che i modelli con i quali alcuni fenomeni vengono previsti in alcuni casi convergono e quindi l'incertezza è minore e quindi è maggiore la possibilità di azzeccarci altre volte i modelli non convergono e quindi quella percentuale di incertezza è maggiore e quindi c'è la maggiore probabilità che tu possibilità che non ci azzecchi allora questo tema dell'incertezza e della comunicazione ma mica riguarda solo il virus se noi mettiamo insieme dieci professori che si occupano di sismologia avranno dieci posizioni diverse che nella pianificazione riesci in qualche modo a mettere insieme dopo 170.000 riunioni esce fuori il famoso verbale condiviso nella gestione emergenziale e qua vorrei tornare ad un punto cruciale o tu ti eserciti pianifichi e quello che noi abbiamo imparato per esempio con la commissione grandi rischi cosa fa la commissione grandi rischi divisa per vari settori si confronta sulle tematiche scientifiche quotidianamente sono i contatti e poi quando c'è la crisi sono persone che comunque si conoscono comunque magari mantengono la loro posizione anche diversa da un punto di vista scientifico ma arrivi ad una sorta di comunicazione che in qualche modo può essere utilizzata da chi deve prendere decisioni operative in un certo senso e poi politiche se ci sono delle decisioni politiche da prendere ma questa roba è una roba che si pianifica come diceva il professor Lombardi non è che la comunicazione di crisi noi ci inventiamo c'è una scienza dietro questa roba è una scienza che anche come dire ha seguito anche le disgrazie del nostro paese non sta a me sottolineare anche le alterne fortune della cosiddetta commissione grandi rischi che non è un caso che noi oggi abbiamo per esempio in una forma proceduralizzata molto chiara e molto netta con una forma di confronto con il dipartimento di protezione civile poi c'è una forma chiusa la parte scientifica si confronta da soli proprio per evitare le cosiddette contaminazioni dice allora mi hai condizionato nella mia scelta ci si confronta noi usciamo fuori parte operativa la scienza si confronta ma non è che si confronta un pomeriggio è una commissione che lavora periodicamente dopodiché quel risultato scientifico con quella sensibilità operativa viene presentata alla parte operativa e quindi se c'è necessità non sempre c'è necessità alla parte politica allora io credo che se noi vogliamo come dire fare un passo in avanti delle best practice chiamiamole come ci pare noi dobbiamo dire anche su questo tipo di rischio va pianificato l'incontro della scienza e allora se c'è un settore che si occupa di sismi se c'è un settore che si occupa di vulcani se c'è un settore ci dovrebbe essere un settore che si occupa anche di questi temi perché non si deve trovare di nuovo ad improvvisare senza procedura perché quello è quello che è accaduto e in questa mancanza di procedura fa la cassa di risonanza il social se c'è una procedura se c'è un ente che poi in qualche modo è stato individuato con il CTS che però è stato messo in una procedura costruenda quindi in qualche modo anche con degli strani bypass il CTS che si esprime su Sanremo uno dice allora dobbiamo c'è anche sulla composizione del CTS no ma non voglio entrare su questi temi perché appunto se no facciamo le critiche delle critiche noi dobbiamo prendere questo che è successo razionalizzarlo capire che può risuccedere su questo tema o su altri o su altri anche più classici noi oggi abbiamo un vulcano che è vulcano che è in condizione gialla significa che alcuni parametri si sono modificati i vulcanologi del nostro paese stanno discutendo su quello che può essere un'evoluzione nel lungo termine nel medio termine c'è un ragionamento scientifico che poi e qua la cosa importante secondo me il vero punto della comunicazione è che deve arrivare al cittadino per aumentare anche il proprio senso di responsabilità perché alcune volte il tema rassicurazione è un tema antipatico per chi assume responsabilità qua non c'è da rassicurare nessuno qui c'è da dire noi pensiamo che questo sia il fenomeno c'è questo margine di incertezza noi ci assumiamo alcune responsabilità tu cittadino ti assumi le tue qua allora facciamo come dire un processo virtuoso in cui ognuno fa il proprio pezzo in un meccanismo complicato se no il cittadino aspetta che qualcun altro dia le indicazioni chi dà le indicazioni non è strutturato per darlo e quindi la morbosità generale è comune costante alimenta questo processo e noi usciamo in un processo di comunicazione devastante credo che una buona esperienza sia dire qua non stiamo a mettere i voti a nessuno facciamo una fotografia dell'esperienza abbiamo un'esperienza addirittura mondiale perché abbiamo un'esperienza mondiale e ragioniamo su come strutturare il governo dell'incertezza chiudo dicendo a me è sempre non vorrei fare un paragone medico perché a me mi è sempre stupito ma anche prima della pandemia con gli avvisi meteo noi accettiamo che se c'è una radiografia tu vai da 12 medici e ti danno 6 risultati diversi chi ti vuole operare chi fa l'infiltrazione e sono tutte fin quando uno poi quello lo accettiamo però poi arriva il bollettino e noi vogliamo sapere domani alle 5 se piove o no e diventa ci hai azzeccato o non ci hai azzeccato allora in alcuni campi noi accettiamo l'incertezza anche collegata alla responsabilità perché il medico guarda quella radiografia sto semplificando e si assume il responsabile di dire guarda se tu vuoi essere un mio paziente per me questo è il percorso lo ritengo assolutamente legittimo lo ritengo legittimo e colui che assume come la decisione perché poi dice comunque ovviamente devi decidere te decide se quelle interpretazioni in quel momento gli va bene oppure se si sente più sicuro il famoso rapporto che esiste di fiducia e quindi io gli dico guarda mi ha convinto più quello perché ci ho parlato mi ha spiegato di più ho capito meglio mi sento più sicuro alcune volte noi andiamo a cercare il medico che ci dice che non abbiamo niente però anche questo c'è da dire quindi andiamo a cercare tutto il medico e poi dici no guarda questo è il medico che mi piace cioè non devo fare niente non devo fare infiltrazione non mi devo operare e allora là nasce il cortocircuito pensando a questa situazione banale scusate ho banalizzato all'ennesima potenza nasce la rassicurazione del cittadino il cittadino non va rassicurato il cittadino va responsabilizzato nella maturità del cittadino alcune cose le conosciamo al 100% si fa così perché è sicuro altre cose il più delle volte c'è una percentuale io ti dico come viene scelta il famoso discorso del vaccino l'ha detto anche Fabrizio Pregliasco non è che il vaccino non ha come dire una controindicazione evidentemente sulla larga scala si fa come dire la percentuale numerica banale poi dice sì ma se capita capita a me lo so però chi prende decisioni su uno stato su un popolo su un gruppo qualunque elevato di persone non può che riferirsi a quello che come si suol dire il bene comune quindi io sono fermamente convinto che sulla comunicazione anche sulla comunicazione come dire di cui noi oggi non immaginiamo perché oggi parliamo del virus ma potremmo avere anche in futuro altre forme di difficoltà perché un qualche cosa di nuovo noi dobbiamo strutturarci secondo come dire un processo che sia virtuoso anche perché e chiudo davvero noi non avremo mai l'unitarietà di comunicazione io sarei anche sospettoso francamente se io avessi dieci scienziati che mi dicono tutti e dieci la stessa cosa perché penso ma avranno tutti approfondito con lo stesso metodo oppure quella roba la stiamo vedendo da prospettive diverse perché il confronto non è una cosa negativa perché anche qua il confronto è una cosa positiva il problema è quando quel confronto diventa scontro e quindi diventa difficoltà di comunicazione grazie Curcio Paolo Spada io chiederei anche il futuro di pillole di ottimismo quando lo continuate a tenerlo aperto c'è un momento in cui pensate di chiuderlo che si potrà esaurire la sua funzione o come dire un'esperienza che pensate di tenere aperto poi ovviamente le riflessioni che ritieni di fare rispetto ma è collegato un po' al discorso pillole di ottimismo è nato soprattutto perché si sentiva l'esigenza di una via di mezzo che per tanto tempo è mancato cioè per troppi mesi la narrazione dei covid ci dava la sensazione che fosse unicamente focalizzata sul nemico virus noi usiamo questa metafora della navigazione tra due scogli da una parte c'è il virus che devi cercare di evitare dall'altra parte però ci sono tutte le ricadute economiche sociali familiari lavorative psicologiche che ogni volta che sterzi per evitare di andare a sbattere sullo scoglio del virus rischi di incappare nel secondo scoglio molto spesso nel corso dell'epidemia abbiamo sentito la necessità di ricordare anche eventualmente l'istituzione che esiste una via di mezzo che non c'è per forza bisogno di essere un negazionista per però ridimensionare il terrore per non essere un catastrofista ci si può venire un po' incontro io ribadisco ho molta indulgenza in questo momento nei confronti di chi allora specialmente nel momento più difficile era al comando capisco che sia stato complessissimo poi non dimentichiamoci che stiamo parlando di una tempesta perfetta cioè questo virus ha avuto questa capacità di essere estremamente invasivo ma nello stesso momento pochissimo impattante sulla salute individuale questo che ha lasciato larghissimo margine di interpretazione chiunque dicesse qualcosa non aveva mai completamente torto su questo virus quindi il problema comunicativo parliamoci chiaro non lo risolviamo certamente stasera da nessuna parte nel mondo è stato gestito in modo perfetto probabilmente da noi è stato fatto un ottimo lavoro complessivamente non solo dal punto di vista comunicativo anche proprio dal punto di vista della gestione secondo noi talvolta eccessivamente prudente quindi nella navigazione tra i due scogli eccessivamente attento a non sbattere contro il virus e un pochino dimentico degli aspetti psicologici sociali che noi sui social poi abbiamo dovuto affrontare c'è tantissima gente che è rimasta chiusa mesi e mesi col terrore del virus ci sono bambini che sono stati distrutti psicologicamente ecco qualche volta l'aspetto comunicativo è anche sostanziale noi per mesi abbiamo continuato ad avere delle politiche per esempio di isolamento del positivo le più restrittive rispetto a tutto il resto del mondo ancora adesso abbiamo alcuni aspetti che fatichiamo a lasciarci alle spalle però nello stesso tempo io mi dico certe volte sono contento viceversa di essere in Italia perché in Italia comunque abbiamo gestito anche questa fase di ritorno verso la normalità con molta attenzione con molta cautela e ci siamo fatti carico della protezione civile secondo me in maniera molto coerente con la nostra natura con i nostri valori altri paesi del nord Europa per esempio sono stati molto più easy ok tollerno molti più morti al giorno parliamoci fuori dai denti no perché qui si tratta di stabilire ormai cosa riteniamo tutti quanti accettabile noi ritenevamo accettabile la coda di decessi che segue ogni ondata epidemica influenzale nessuno nessuno si sognava di imporre mascherine o distanziamenti avevamo il vaccino manco lo facevamo figuratevi ritenevamo accettabile che 8 10.000 persone all'anno decidessero a seguito di quella di quell'epidemia e altrettanto dovremmo fare questa volta ecco in Italia secondo me siamo stati molto prudenti però tutto sommato io sono contento penso che questa fase in particolare stia rendendo giustizia complessivamente a una gestione anche comunicativa grazie abbiamo raggiunto l'accettabile anche perché forse fino ad oggi non lo sapevamo questi dati anche degli 8 10.000 morti di influenza all'anno no non lo sapevamo noi voi medici sicuramente lo sapevate però non è un dato che mentre i 135.000 140.000 morti di covid se usciamo di qua lo sono tutti se usciamo di qua o anche stando qui dentro chiediamo quanti sono i morti di influenza all'anno quanti sono i morti di cancro all'anno probabilmente non lo sappiamo io sono andato a Vermele per avere dei termini di paragone che sono di più dei morti di covid che sono state nell'ultimo anno però questo termine di paragone è sfuggito ed è un altro elemento che forse non è entrato nella comunicazione per dimensionare la cosa che andavamo incontro l'ultima chiose finale anche a Lombardi e Puleo prego sì beh direi che abbiamo fatto dei passi avanti con questo incontro in particolar modo il capo della protezione civile ha ben mostrato una cosa di cui sono felice è che siamo nel momento in cui cominciamo a pensare quello che è accaduto per affrontare meglio il futuro e l'ha chiarito molto bene dandoci dei passi e questa è una grandissima cosa da sentire soprattutto qui alla Reas dove siamo tra di noi della protezione civile a parlare allora aggiungo un paio di punti tra le cose su cui riflettere perché finora abbiamo parlato soprattutto di comunicazione intendendo quella comunicazione che noi abbiamo fatto alle potenziali vittime ai cittadini per aiutarli e per cavarsela in realtà la comunicazione è molto variegata alcune cose le abbiamo le abbiamo dette ma alcuni aspetti richiedono un'attenzione particolare la questione delle infrastrutture della comunicazione la questione del digitale dei social è una questione che dobbiamo affrontare come istituzioni a almeno due livelli c'è una dimensione culturale rispetto ai social con un divide una differenza anche generazionale ma non solo anche in termini di opportunità di accesso al mondo digitale sulla quale dobbiamo interrogarci e questo è un punto ma c'è anche una dimensione istituzionale che è importante e io più volte ho avuto così relazioni con i vari amici in questo periodo della comunicazione presidente di regione Lombardia e purtroppo questo vale per tutti quando si parla di social la comunicazione attiva sui social è ancora strettamente legata a una dimensione che è esclusivamente politica è molto difficile che una istituzione che ha competenze operative possa entrare nel mondo digitale per fare altro che non ascoltare spesso è già tanto se può anche solo ascoltare oggi è completamente diverso oggi noi dobbiamo dotarci di competenze e di strategie come operatori anche della protezione civile la protezione civile per essere in prima linea a gestire il fronte della comunicazione del mondo del mondo digitale questo è necessario e qui ci serve l'aiuto anche della politica che capisce che non è solo una relazione simil faccia faccia quella che si avviene nel digitale che quindi ha a che fare con il mondo dell'acquisizione del consenso ma in certi momenti diventa determinante entrarci per fornire orientamenti rispetto a comportamenti che è opportuno ad attivare altro aspetto che sottolineerei è che è doppio è la dimensione internazionale della comunicazione questo è fondamentale e che non ha solo a che fare con la comunicazione classicamente intesa vi ricordo solo due due aspetti una comunicazione fatta dall'Italia verso l'esterno quando a seguito della prima ondata il nostro paese dichiarò di volersi chiudere per solidarietà in modo da far sì che il virus restasse in qualche modo confinato che bella cosa ma nessuno ha pensato a due effetti il primo come ci chiudiamo dentro è un boomerang interno mostruoso cioè pensa intanto ai tuoi cittadini che cosa significa la quantità io sono all'interno di numerose reti internazionali la quantità di chiamate dall'estero chiedono ma le cose stanno andando così male in Italia state morendo tutti che vi state chiudendo dentro prima considerazione la seconda non so se l'avete notata i paesi accanto a noi dalla Francia all'Austria che immediatamente hanno detto bravi avete ragione fatevi così e chiudetevi dentro noi intanto circoliamo all'esterno quindi hanno dirottato tutto il sistema economico ai bordi esterni del nostro confine però ragazzi questi sono effetti di una comunicazione da disadattati politici che si fa non è una comunicazione altro altro aspetto internazionale noi abituati a esportare aiuti ci troviamo russi cubani montenegrini e albanesi americani che sbarcano che sbarcano da un altro pianeta a portarci aiuto magari con i camion militari che attraversano che attraversano il paese ma il costo il costo del dell'impatto che questa comunicazione di questi aiuti sul nostro territorio ha portato al morale dei nostri cittadini rispetto al costo che il vantaggio che ne abbiamo avuto da questi aiuti questo è qualcosa che dobbiamo misurare signore perché altrimenti tutto questo rientra all'interno di una gestione ancora una volta di exploitment di sfruttamento di un evento per altri fini ma il tema dell'internazionale per me è un altro tema estremamente importante o meglio doppio attenzione a sì la comunicazione passa attraverso una molteplicità di canali tra cui quello digitale e questo è un suo tema ma anche passa all'interno di una serie di canali che sono il comportamento agito che dobbiamo considerare quindi ogni tipo di azione sul nostro territorio ha comunque un effetto comunicativo che dobbiamo valutare e poi siamo sempre all'interno di un regime comunicativo che va ben oltre il nostro territorio e quindi soprattutto in situazione di stress una comunicazione istituzionale di crisi non può confrontarsi anche con interessi specifici del nostro paese che riguardano le sue relazioni con altri potenziali competitor questo è un altro aspetto nuovo mai emerso prima che è esploso invece con la pandemia e che porta altro tipo di considerazioni sono permessi di metterli altri punti sull'analisi sul percorso che il capo della protezione civile sta facendo grazie grazie impariamo che non si può non comunicare perché se non comunichi tu lo farà qualcun altro allora tanto vale imparare a farlo imparare a governarla la comunicazione invece che subirla questo potrebbe essere un po' un riassunto di quello che ci siamo detti di una comunicazione consapevole con quella responsabilità che ci deve essere a seguito della comunicazione lo diceva prima Curcio lo sta dicendo adesso professor Lombardi facendo l'esempio sugli impatti internazionali di come alcuni hanno goduto di certe nostre defiance nella comunicazione goduto in termini pratico non solo in termini morali primo aspetto secondo aspetto fatemi chiudere da presidente di Ampas Lombardia e quindi e riallacciandomi a una cosa che mi era stata chiesta all'inizio dicendo insomma la Lombardia è stata epicentro sicuramente nella prima ondata con un ruolo chiave e principale dei volontari e delle volontarie del sistema sia nel sistema di protezione civile che in particolare per la Lombardia nel sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria visto che in Lombardia il 98% dell'urgenza e emergenza sanitaria cioè dei servizi 118 sono fatti dalle organizzazioni di volontariato delle tre grandi reti nazionali del volontariato Ampas Croce Rossa misericordia di solidarietà questo si è riversato di conseguenza anche nella gestione di questa emergenza extra ospedaliera perché questa è stata prima di tutto un'emergenza extra ospedaliera che poi si è riversata all'interno dei nosocomi e agli interni degli ospedali ma non dimentichiamoci che le persone ci dovevano arrivare in ospedale e le persone non solo ci dovevano arrivare in ospedale quando stavano male le persone in ospedale ci dovevano andare per fare le visite per fare anche quelli che non c'entravano niente col covid e non ci potevano andare durante le ondate pandemiche se non venivano accompagnate da personale abilitato e professionalmente capace e dico professionalmente non professionisticamente usando un termine un po' improprio la professionalità ce l'ha anche il volontario ce la deve avere anche il volontario non basta la buona volontà ci vuole la capacità e la formazione che questo esercito buono i centomila solo di Ampas in Italia i ventimila di Ampas in regione Lombardia ventimila più 750 dipendenti delle nostre pubbliche assistenze e tutti gli altri volontari dipendenti degli amici di Croce Rosso e Misericordia di Solidarietà hanno fatto una cosa che è fondamentale e che non è risultata tantissimo a livello comunicativo hanno salvato tante vite umane perché se questo sistema che ci è stato chiesto la domenica 24 febbraio 23 febbraio non mi ricordo quando era due giorni e mezzo dallo scoppio della pandemia quando nel resto d'Italia non si sapeva neanche di che cosa stessimo parlando ricordiamoci questo non si capiva cosa sta succedendo in Lombardia la domenica mattina in una riunione in regione Lombardia con i presidenti regionali delle tre federazioni a dire noi entro 48 ore abbiamo bisogno di 150 ambulanze in più sul territorio perché perché la gente già oggi domenica sta morendo a casa e noi dobbiamo portarla negli ospedali 150 ambulanze in 48 ore attivate non si sarebbero attivate se non ci fosse stato il mondo del volontariato alle spalle e l'ingegner Curcio l'ha detta molto bene e chiudo è ben consapevole e credo ben orgoglioso come lo siamo tutti noi di questo sistema di questa forza che è anche una debolezza della nostro paese perché perché nel momento in cui ci sono bene ma nel momento in cui non ci dovessero essere più il paese si trova col sedere per terra e questo se lo devono ricordare le istituzioni in particolare la classe dirigente politica a livello nazionale a livello locale nel momento in cui il mondo del terzo settore si trova in difficoltà il terzo settore non è antagonista a nessuno ma rispetta i principi della sussidarietà che sono previsti dalla Costituzione italiana e quindi è una risorsa che deve essere tutelata perché è un privilegio che ha la nostra nazione e che tante tante altre nazioni non hanno sottoscrivo parola per parola cosa ha creato Puleo grazie grazie dell'intervento nel nostro piccolo facciamo facciamo di tutto per comunicarla l'importanza adesso chiuderei lascio veramente i saluti finali al Presidente nazionale di Ampas Fabio Bezzo Pregliasco al quale vorrei chiedere di poter leggere la chat dei virologi ovviamente non me lo consentirà quindi vi chiedo di fare i saluti conclusivi no davvero un grazie a tutti gli amici che di presenza e sono molti ma soprattutto i tantissimi in streaming ma soprattutto direi a chi ha voluto cogliere questa occasione di riflessione insieme e come diceva Luca dell'importanza del volontariato italiano del volontariato noi siamo Ampas rete nazionale di 100.000 insieme agli amici l'ha ripetuto e dobbiamo dirlo sempre di Croce Rosse e di Misericordia come elemento importante ma insieme anche a tanti altri perché poi non ci siamo solo noi ci sono una costellazione di enti che fanno volontariato e lo fanno in contesti di protezione civile e io credo che l'elemento bello nostro al di là appunto del disastro che tutti noi abbiamo fatto è che il volontariato ha colto l'occasione di ritornare a fare ciò che i nostri nonni e bisnonni hanno fatto in Italia una peculiarità bellissima all'epoca non c'era il welfare come lo conosciamo noi adesso e le corporazioni le misericordie insomma tutte queste entità la fratellanza militare fra i garibaldini tornati a casa che non sapevano come gestirsi la vita dopo quell'elemento hanno permesso di dare soddisfazione all'epoca per quanto possibile a nuove emergenze e credo che questo sia un aspetto positivo della tristezza cosa posso dire su questo Fabrizio una cosa lo dico da osservatore però ormai da qualcuno da questo mondo per chi conosce il mondo del volontariato io ho visto in questo anno e mezzo la capacità delle tre re misericordie Ampas e Croce Rossa di lavorare in modo sinergico che probabilmente non c'era prima e non era assolutamente scontata delle sportellate ce le siamo sempre dati magari ma sono sportive diciamo rispetto a situazioni però devo dire che in questo piano c'è stata una grande capacità di lavorare assieme poi con la protezione civile naturalmente questo Croce Rossa devo dire anche qui onore al merito anche nel suo precedente la prima esperienza da capo del dipartimento su questa cosa è stato sempre molto attento infatti è stato fondamentale il dipartimento chi si è succeduto nella responsabilità e Fabrizio è un esempio notevole ha proprio visto l'opportunità di avere che l'Italia ha rispetto ad altre nazioni di un serbatoio di un palestra di persone che sono nel quotidiano sono nel periodo non devastante della vita ma nel quotidiano ecco io credo il messaggio positivo che ci dobbiamo portare avanti è questo l'opportunità le difficoltà di reclutare volontari perché noi siamo stati angeli a cui venivamo applauditi nel momento dell'emergenza acuta che poi ci si dimentica lo dicevano i relatori prima e poi infastidenti quando si hanno dovuti ritornare a lavorare molti amici non hanno potuto venire a fare volontariato perché l'angelo va bene ma non è il vicino di scrivania o il vicino di pianerottolo che si è esposto in una fase acuta ed emergenziale quindi io spero questa ovviamente era un'occasione di confronto non risolutiva ma di ricostruzione di resilienza e di quello che sono e tra l'altro sarà nella prossima settimana fra due settimane io non rischio quella bellissima esperienza che noi come Ampas siamo stati come dire tra gli ispiratori ripresa dal dipartimento che non è passata di moda sarà un elemento che tra l'altro il sistema anche dei social che abbiamo dovuto costruire e che sarà riproposto in parte in questa occasione ci pone di fronte di essere attori della prevenzione del miglioramento della comunicazione dell'informazione e lo ha detto molto bene prima Fabrizio della messa di responsabilità di ognuno di noi cittadino magari anche volontario volontario in realtà strutturato bene Presidente grazie al relatore grazie a chi ci ha seguito buon pomeriggio buona domenica arrivederci grazie a chi ci ha seguito grazie patrizio davvero mi piace Grazie.